buongiorno come sta e poi non ci pesiamo perché temo di sforare pure sul doppio sì però vedo che lei sta benissimo è vero è vero è vero molto bene sediamo di vederci è importante non ho visto ma non vengo da tanto lontano perché vengono da reggio miglia quindi conosco un po questo territorio diciamo lei viene da vicino ma è stato un mio insegnante di teologia per città 5 anni e poi è stato ausiliare dove io quando io ho cominciato a lavorare in curia quindi l'ho conosciuto bene le dico in particolare quando uscì il nuovo codice di diritto canonico ruini non aveva studiato diritto e si sentiva carente su questa maniera mi ha chiamato a casa sua a fare qualche lezione sul nuovo codice di diritto canonico e abbiamo studiato un po insieme un po insieme la materia non so se mi sia servito ma penso di sì è una successione in linea grazie 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 adesso stiamo grazie garanzia